Soffici pancake preparati con yogurt e miele. Iniziamo a setacciare la farina insieme a un cucchiaino di lievito. Aggiungiamo il miele, l'olio di semi, in sostituzione potete utilizzare del burro fuso, un pizzico di sale che nei dolci serve per attivare le papille gustative, il latte e per finire lo yogurt. Prima di aggiungerlo versiamo un cucchiaino di bicarbonato oppure di cremor tartaro all'interno dello yogurt. Se utilizzate il bicarbonato lo yogurt per reazione chimica si gonfierà. E adesso dobbiamo semplicemente mescolare il tutto, potete utilizzare una forchetta oppure delle fruste. Lavorate l'impasto fino ad ottenere una pastella liscia e senza grumi. Fatto l'impasto possiamo procedere direttamente alla cottura. Prendiamo un padellino antiaderente e imburriamo leggermente il fondo. Per avere dei pancakes soffici e alti vi consiglio di utilizzare un tegame che abbia un coperchio e durante la cottura versate un cucchiaino di acqua così creeremo del vapore all'interno. Una volta cotti sono già buoni da mangiare così ma si possono aggiungere sia creme spalmabili che confetture.